Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo breve video in cui vi andrò a dire delle cose abbastanza importanti Avete visto questa grande inattività ultimamente, ma ragazzi per un semplice motivo Perché ho dovuto riformattare il computer Voi direte, Luke che ti è successo al PC? Te l'hanno aggerato, no? No ragazzi, semplicemente quando metto il nuovo antivirus, siccome era scaduto, ogni volta formato il PC salvando i dati importanti In modo da avere sempre il PC bello pulito Quindi ragazzi, riformattandolo ho perso molto tempo a rimettere tutti i programmi E da lunedì cercherò di ripartire bene con i video Infatti questo è il primo video che riesco a arriccare proprio all'ultimo secondo Che è venerdì a mezzanotte, lo sto arriccando, quindi non è che sia tanto un bel orario E appunto ragazzi, da lunedì spero di ritornare normalmente a fare video Può darsi che questo qui si autodistruggerà E può darsi anche ragazzi che oggi farà una live, magari più tardi Quindi rimanete aggiornati sul canale Perché può darsi che fate in live? Ovviamente ragazzi non live gioco perché per chi lo sa c'è una connessione abbastanza schifosa Però almeno una live in cui parleremo assieme Detto questo ragazzi, spero che il video comunque vi sia piaciuto Penso che lo eliminerò Lo tengo soltanto per farvi arrivare il messaggio Ci becchiamo alla prossima e... Ciao a tutti ragazzi!